Noi siamo contenti di poter esserci, aver lavorato un pochettino al suo posto, avergli consentito oggi di stare a casa a riposarsi un po', anche perché è arrivata nella notte, stanotte è tardissimo, questa mattina, perché è un essere umano, anche se noi la consideriamo una super donna, poi un essere umano ogni tanto deve dormire, ogni tanto deve stare a casa. Il piano di lavoro è stato questo. Siccome noi vogliamo preservarla siamo contenti che lei oggi ci abbia salutato così. Ma non c'entra niente la polemica che sta imperdessando in queste ore, il giambuno, la privacy.